E allora vanno al via le partecipanti al premio Balli da RFC, terza del convegno Zambra OP, Zampata, Zublemas, Zucca Zala, Zizan, Zealand AS e Zantedino. In seconda fila Zanita Jet, Zoheral, Zara Meil, Zadria del Circeo. Come nel giorno del debutto Zeealand AS non parte granché, sbaglia anche Zublemas e davanti ci va Zizan. Zizan al comando, Zambra OP di rincalzo, sbaglia Zampata, allargo Zantedino che andrà a cercare un posticino in corda, lo trova in terza posizione. Vediamo se Giuseppe Pistone decide di acquadarsi oppure di provare ad andare sulla battistrada, ma sembra che tutta l'intenzione sia quella di andare a sistemarsi nella scena dei primi due. E allora Zizan su Zambra, poi Zantedino davanti a Zucca Zala, i primi 400 metri in 32, e allargo. A questo punto risale Zara Meil, prova ad opporsi Zantedino, ma Zara Meil spara la punta di velocità, gira le avversarie e passa a condurre dopo 645-6 così, in vantaggio Zara Meil, di rincalzo Zizan, all'esterno Zantedino, poi lungo la corda Zambra OP. Cavalli che completano ora la prima parte di gara, la prima metà, in 1-1 e due decimi, con Zara in vantaggio, Zante che si impegna all'esterno in corda, si mantiene Zizan, poi Zambra OP, allargo a mosso anche Zucca Zala, il completamento dei mille iniziali per Zara Meil in 1-16-9. Un bocco della curva conclusiva ormai prossimo, in terza pariglia sposta anche Zoharal, Zoharal si avvicina anche Ziland AS, a ridosso del gruppo, 1-32-6, tre quarti di miglio, Zara Meil in vantaggio all'ingresso della retta di arrivo, in terza lo scatto di Zucca Zala, di dentro sempre Zizan, Zucca Zala che prova l'aggancio a Zara Meil che però sta allungando, a centro pista anche Zambra OP, Zara Meil controlla bene bene fino in fondo e va a vincere, davanti a Zucca Zala e Zambra OP. Buona per la prossima questa Zucca Zala, ha corso bene. 2-3 sul mio cronometro, la media direi intorno all'1-16-6-16-7, il successo per Zara Meil e Alessandro Gocciadoro, in salchi al training, i colori sono della scuderia Orsis Our Passion, la quota 1-55, eccola qua che passa da vincitrice sul traguardo, netta netta netta, secondo posto per Zucca Zala, terzo posto per Zambra OP. Grazie a tutti.